Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi è il primo di agosto perché lo dico con questo entusiasmo perché ci stiamo avvicinando veramente in maniera forte decisa a quello che sarà il primo impegno ufficiale della Juventus. Io ho molta voglia di vedere nuovamente la Juventus all'opera e quindi non vedo l'ora che possa arrivare con Juventus Como per tornare a fare sul serio e cercare di capire anche fino a dove dobbiamo spingerci o dove possiamo spingerci ma soprattutto perché terminerà il calcio mercato. A me il calcio mercato piace e anche tanto però credo che due mesi siano eccessivi. A me è piaciuto in particolar modo quando abbiamo fatto quel calcio mercato con Pirlo che è durato un solo mese ed è stato tutto talmente concentrato e talmente veloce che quasi non ce ne siamo accorti. C'era sempre più campo e sempre meno voci, sempre meno trattative, sempre meno indiscrezioni. Il calcio mercato sì è divertente ma mai come il pallone che rotola e mai dovrà essere più divertente il calcio mercato che il pallone che rotola perché sennò sarebbe una sconfitta. Allo stesso tempo dobbiamo anche muoverci nel concludere determinate trattative. Ieri abbiamo parlato di due giocatori in particolare. Uno lo tratteremo anche oggi che è Nico Gonzalez e il secondo invece Cobb Mainers come prevedibile è stata rifiutata la prima offerta da parte dell'Atalanta perché ovviamente la Juventus aveva offerto troppo poco. Anche qui in realtà c'è un grattacapo perché secondo Alfredo Pedullà Cobb Mainers è l'obiettivo principale della Juve, è uno dei giocatori per cui la Juventus sta ragionando da tempo ma nessuna offerta ufficiale è ancora stata recapitata all'Atalanta. Quindi cerchiamo di capire l'evolversi di questa situazione. Abbiamo uno scontro tra due giornalisti molto influenti del calcio mercato come Fabrizio Romano e Alfredo Pedullà sul fatto che sia stata presentata oppure no un'offerta ufficiale all'Atalanta da parte della Juventus. Vedremo un attimino che cosa succederà però se è stata presentata o non è stata presentata, poco cambia, c'è da muoversi. Manca poco all'inizio della stagione, manca anche poco al termine del calcio mercato, quindi c'è da muoversi. Sempre secondo Alfredo Pedullà però attenzione ragazzi ci potrebbe essere una cessione a breve per la Juve. È una cessione alla quale siamo già preparati, siamo già pronti, lo sappiamo è quasi annunciata ed è quella di Daniele Rugani. Nonostante rinnovare il contratto fino al 2026, Daniele Rugani sarà uno dei giocatori in uscita per la Juventus. Però già era strana la situazione Rugani che in scadenza rinnova per cercare di spalmare l'ingaggio eccetera eccetera e qualcuno mi ha detto In realtà è una strategia molto intelligente da parte della Juve perché semplicemente un giocatore che avrebbe perso a parametro zero lo va poi a vendere e quindi va a guadagnarci dal punto di vista del cartellino. E io continuo a dirvi che il fatto che uno rinnovi e che poi per volere della gente sia ceduto lo trovo soltanto un modo per far girare qualche soldo alla gente della serie. Vado a fare diverse trattative sia quella del rinnovo di contratto sia quella della cessione. Poi sì, la Juventus nel caso andrebbe a guadagnarci qualcosa però la considero molto strana. Ecco aggiungiamo un pensettino che va a smontare completamente quella teoria e anzi va a consolidare la situazione davvero stranissima. Perché Alfredo Pedulla ci dice Rugani è pronto ad accettare l'Ajax che era una destinazione che era già venuta fuori ed era assolutamente una delle prime mete per Rugani. Rugani anche se ieri abbiamo ipotizzato addirittura potesse rientrare all'interno della trattativa con Meners perché anche l'Atalanta ci aveva fatto un pensierino. Molto probabilmente Rugani andrà a giocare nell'Ajax che per tradizione è un club che basa veramente sul calcio giocato tutta la sua storia. Ma Rugani dovrebbe andare all'Ajax in prestito secco. Ora piano, 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 piano cerchiamo di ricostruire la situazione. Qui abbiamo un giocatore che è alla Juventus da tanti anni, veramente da tantissimi anni. È sempre stato bene o male un giocatore di riserva, ma un giocatore di riserva molto affidabile. Poi a un certo punto la Juve decide di cederlo. Rugani va prima in Francia e poi dopo sei mesi al Cagliari, dove retrocede tra l'altro mi pare, senza trovare continuità di rendimento. Un conto è essere titolare, un conto è essere delle riserve. A volte essere delle riserve in un top club è più vantaggioso che essere titolare in altri. Non perché il giocatore non sia capace per dire che per me Rugani è stato uno dei giocatori più positivi presi in considerazione nelle prestazioni di quest'anno. Però un conto è farne poche, un conto è farne tante sempre. La continuità è qualcosa che va sempre presa con le pinze. È ovvio, per contestualizzare il valore di un giocatore devi contestualizzare sia il livello sia la continuità. Io credo che la dimensione ideale per Rugani possa essere davvero una big, ma a patto che faccia poche partite all'anno. Un po' secondo me il ragionamento che va fatto con Perin, tante volte la gente mi dice ma perché Perin non gioca titolare, Perin quando ne gioca poche e fa delle prestazioni di altissimo livello, un conto poi è dare continuità. Però queste sono mie teorie, supposizioni eccetera eccetera. Però un giocatore che poi va in scadenza e viene rinnovato perché ha sempre guadagnato delle cifre alte e che oggi l'eventus non può permettersi per una riserva poi viene ceduto dopo il rinnovo ufficiale e viene ceduto in prestito. Io sinceramente non comprendo. Cioè qui viene a mancare anche quella parte del ragionamento che fa entrare qualche soldino alla Juve a meno che non sia un prestito in cui Rugani viene pagato 3 milioni per il prestito. Ma di dubito, perché secondo me con 3-4 milioni compri il cartellino o giù di lì io continuo a non capire il senso di questa trattativa. Per me Rugani ci stava a rinnovarlo, ci stava a tenerlo come riserva anzi per me un giocatore come Rugani per il livello della Serie A come riserva è un lusso che pochi possono permettersi perché secondo me Rugani in alcune piazze anche importanti potrebbe davvero giocare titolare. Ripeto, non magari i livelli da big che lottano per vincere lo scudetto tutti gli anni perché siamo oggettivamente a un livello troppo alto ma ci sono delle piazze che vogliono semplicemente guadagnarsi delle posizioni UEFA che per me Rugani titolare lo potrebbero avere assolutamente. Anche l'Atalanta, se pensavo a Rugani, era secondo me una cosa logica, sensata è comunque un club che fa la Champions Rugani è un giocatore di esperienza, un giocatore che la Champions l'ha anche giocata nelle rotazioni per l'Atalanta sarebbe stato secondo me davvero un lusso. Va all'Ajax, ok, perfetto, ma in prestito. Io non riesco davvero a capire la logica dietro questa cosa di Rugani. Un giorno ce la spiegheranno, sicuramente un giorno sarà chiarita magari per qualcuno è chiara, a me non torna. Cioè qualcosa che proprio non mi fa tornare il senso della situazione. Però sicuramente qualcuno avrà le idee più chiare di me e si stanno muovendo in questa direzione, per questa cosa qua sicuramente un senso ce la deve avere, perché sennò perdi tempo, energie inutilmente. Quindi non deve essere, non sarà così, non può essere così. Non ha senso perdere del tempo in questo modo. Quindi un giorno qualcuno mi spiegherà la situazione Rugani. Devo invece ringraziarvi, perché ieri sera quando abbiamo parlato di Nico Gonzalez io mi ero completamente dimenticato di un dettaglio, e cioè McKennie. Io sono ancora convinto che Nico Gonzalez sarà ipervalutato dalla Fiorentina. Perché quando la Juve chiede un giocatore alla Fiorentina questi attivano un moltiplicatore automatico per 2, per 1,5, per 3, una roba del genere. E se per gli altri costa 5, per la Juve costa 15. Se per gli altri costa 10, per la Juve costa 35. Roba del genere. Nico è un altro giocatore che era stato trattato dall'Atalanta. Se lo vuole la Juve lo paghi il prezzo caro. Qualcuno però mi ha detto, ma attenzione perché McKennie è un giocatore che orbita Fiorentina, abbiamo già discusso, è vero, bravi. Io invece mi ero scordato di questa roba qui. A me non torna nemmeno il fatto che McKennie possa andare a giocare a Firenze dopo aver rifiutato la Premier League, la Champions League e anche dei contratti di un certo tipo. Però se dovessimo riuscire ad incastrare uno scambio tra McKennie e Nico Gonzalez McKennie è un giocatore in uscita per la Juventus quasi è un problema oggi per la Juve McKennie. Perché è un giocatore palesemente in uscita. C'è un cartello scritto, me ne sto andando, qualcuno mi compri. Per la Juventus McKennie oggi è una problematica che va risolta. Quindi se si riesce a fare McKennie più qualche soldino per Nico Gonzalez io sono assolutamente d'accordo. Però poi io non so se Nico Gonzalez è un giocatore pronto per essere un titolare della Juve. Questo dobbiamo dircelo con grande chiarezza. È un giocatore che per me ha delle caratteristiche interessanti per il gioco di Motta però non so se me lo vedo dal primo minuto. Tutte le partite. Cerchiamo anche di ragionare sui livelli. Cerchiamo anche di ragionare... Prima abbiamo parlato di continuità. Sicuramente Nico Gonzalez sono un giocatore continuo. Però cerchiamo anche di ragionare che in una squadra di calcio ci servono i titolari. I subentranti, quindi quelli che non sono a livello di titolari ma per qualche partita l'anno si può fare. E poi quelli che non sono pronti ma sono lì per completare la rosa. Queste sono le tre definizioni macro dei calciatori. Per me Nico Gonzalez si può prendere. Se devo svenarmi, anche no grazie. Se devo metterlo titolare, anche no grazie. Se lo prendo all'interno di uno scambio che mi va a risolvere una problematica in uscita come quella di McKennie e devo aggiungere qualche soldino, grande sì. Secondo me questo è possibile? No. Lo dico. Per me no. Per me non è possibile questa cosa. Cioè, sarebbe una cosa troppo positiva. Secondo me siamo troppo ottimisti a ragionare su questi binari. tant'è che ieri non mi era nemmeno venuto in mente questa roba ma va sottolineata, va evidenziata. C'è questa possibilità. C'è questo incastro, dato che c'è l'interessamento alla Fiorentina per McKennie. McKennie più 10 milioni, dico Gonzales me lo prendo. Dico proprio fuori dei denti. Che vai bene o male a valutarlo anche quei 30 milioni che chiede la Fiorentina però lo paghi 10 e ti risolvi una situazione di un giocatore che va in scadenza e che tra sei mesi perdi a zero. Circa ci siamo poi su una valutazione di 30 milioni perché McKennie tra i 15 e i 18 potrebbe essere valutato. Una roba di questo tipo. E poi dopo l'altro giocatore è Chiesa che devi cercare di capire come viene incastrato. Io lo so che ci sono delle voci sull'Inter sinceramente a me sembra strano che Chiesa possa andare all'Inter. Cioè, dove lo metti? Io capirai il Milan. Milan che vuole strutturare un attacco con Leao, con Cucuese, con Pulisic, con Saleme Kerr. Aggiunge Chiesa, gli esterni sono il punto forte e il Milan ok, ci sta perfetto. Ma nell'Inter dove lo ficchi? Cioè vai a cambiare la struttura dell'Inter per Chiesa? Inzaghi abbandona la difesa a 3 e torna a 4-3-3 per Chiesa? O può essere, può assolutamente essere. Però la macchina che ha sempre funzionato bene così con quella struttura sembra anche un po' udace andarla a mettere in discussione per raggiungere un singolo giocatore. Quindi, boh, a me la soluzione Chiesa-Inter fa un po' storcere il naso perché non la considero una mossa possibile. Così come non mi sembra possibile che si possa fare uno scambio tra Nico e McKennie ma perché, ripeto, non vedrei la logica dietro accettare la Fiorentina dopo aver rifiutato la Premier e la Champions della Stonevilla però il mercato ci ha messo di fronte a situazioni come quella di Lugani in cui rinnovi, poi lo cedi, ma addirittura lo cedi in prestito secco all'Ajax. Quindi tutto può essere! Vedete perché dico che due mesi di mercato sono troppi? Cerchiamo di ridurre tutta questa roba in un mese solo e poi torniamo a far rotolare il pallone, a giocare, a sognare perché questa è la cosa che mi interessa di più. Fatemi sapere le vostre considerazioni qui sotto nei commenti abbiamo detto tante cose, tante cose anche strane ma alla fine, quelle strane, sono le più interessanti. Ciao a tutti!